salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ci troviamo all'interno di una Volkswagen T-Roc e entriamo ad abilitare il fascio di luce abbagliante automatico che funziona questo fascio di luce questo fascio di luce ha una funzione che il momento in cui ci troviamo in una strada scura con una galleria che non può illuminata o su una qualsiasi strada con poca luce automaticamente si accendono gli abbaglianti così da aiutarci nella guida e nella visibilità in questo caso faremo questa codifica con l'OBD 11 e questa è la procedura per attivare tale procedura come sempre abbiamo bisogno della nostra applicazione allora andiamo in OBD io adesso ho già fatto la scansione alla macchina facciamo diciamo come appena entriamo facciamo la nostra scansione e quant'altro io in questo caso ho già fatto la scansione quindi andiamo direttamente nella centralina invece di andare nell'apposita applicazione applicazione qua andiamo direttamente nelle centraline della macchina e adesso la metà facciamo un'altra scansione facciamo la scansione tutte le centraline vedete io semmai questo passaggio adesso lo velocizzo un po così in modo totale da non aspettare tutta la scansione ecco qua scansione effettuata nessun errore andiamo all'interno delle cittadine della macchina in questo caso come vi dicevo per fare questa questa codifica dobbiamo andare in modulo centralina il comodo 9 andiamo in accesso di sicurezza e andiamo a mettere il nostro codice il nostro codice in questo caso è 3 1 3 4 7 ok codice di accesso accettato dopo di chi andiamo allora come vi stavo dicendo andiamo in adattamento poi andiamo scriviamo qua solo per fare più velocemente ferra eccole qua ferra ok e andiamo a controllare se alcune decidure sono attive dobbiamo andare a mettere EFS come si è scritto qua più FLA questo qua più questo qua come sempre ad ogni modo vi consiglio sempre di salvarvi come era impostato prima adesso c'è uno screenshot beh in questo caso sto facendo il video quindi per me è più semplice andiamo qua attiviamo e andiamo ad attivare questo qua disponibile una volta fatto queste due ok andiamo ad attivare questa funzione qua sempre il codice di prima 3 1 3 4 7 ok adattamento accettato poi non è fino a qui dobbiamo uscire fuori andiamo in modulo A5 eccolo qua squadre sensori perfetto andiamo in codifica completa ok ragazzi allora una volta entrati nella centralina clicchiamo in alto qua a destra dove ci cito 0 e 1 qua così che ci da tutte le codifiche di byte andiamo in byte 21 in questo caso e andiamo ad attivare il bit numero 5 questo qua vedete perfetto una volta fatto ciò attiviamo codifica completa tale funzione con tale codifica e la codifica che si è effettuata adesso non ci tocco nient'altro che andare in una strada a boia con i fari accesi e vedere il risultato dei fari nel prossimo video comunque in un altro video vi farò vedere la tale funzione al momento non riesco perché comunque è mattina e non riesco a fare tale video va bene ragazzi per oggi è tutto iscriviti come sempre al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao